per le feste di fine anno immergetevi in un universo straordinario con gli animali del mondo intero avvicinatevi guardate tutti aspettano il natale la piccola lince il pulcino il riccio ehi ed eccolo lì c'è Babbo Natale! vivete un natale festoso nel cuore nell'incanto di una natura magica il grande natale degli animali dal 5 dicembre al cinema una grande gioia per tutta la famiglia dai più grandi ai più piccoli